Il Palermo come il Barcellona, magari non dal punto di vista strettamente tecnico, ma da quello societario. E l'ultima suggestione, lanciata dall'imprenditore palermitano ed ex candidato sindaco Tommaso Dragotto, circa il futuro societario rosa-nero. La formula sarebbe quella dell'azione reto popolare, in voga da anni nella capitale catalana, grazie alla quale sono gli stessi tifosi a finanziare il club, insieme ad un gruppo di imprenditori locali forti. Insomma, non più un padre padrone, un patron, ma un presidente eletto con regolari elezioni, che in campagna elettorale non prometta sogni e posti di lavoro, ma chissà, giocatori di primo piano, come avvenne per la porta, che portò in dote niente di meno che Ronaldinho, per ottenere il consenso che lo portò poi alla presidenza. Una suggestione, questa però rimane al momento. Se ne è parlato in Confindustria martedì, rivela lo stesso Dragotto, si tratterebbe di un modello Barcellona, con una società guidata da 20 o 30 imprenditori locali e sostenuta dalle singole quote dei tifosi rosa-nero. Da palermitano mi auguro che diventi realtà, ha concluso, anche se complicato. Complicazioni, dettate dalle cifre che sarebbero chiamati a sborsare i grandi finanziatori, circa 300-400 mila euro, con almeno 30.000 tifosi che dovrebbero aiutare con contributi. Più romanticismo che economia, insomma. Intanto avrebbe dovuto tenersi oggi il preventivato incontro tra Maurizio Zamparini e parte dei rappresentanti del Fondo USA intenzionato, pare, ad acquistare una fetta del gruppo Zamparini, nella quale sarebbe compreso anche il Palermo Calcio, ma così non sarà. Vertice rinviato per concedere più tempo alla completa stesura di tutte le carte, ma che potrebbe avvenire entro lunedì. L'esito potrebbe essere intanto quello di una firma su un accordo preliminare tra le parti. Grazie.